Piero Braglia, allenatore di questo Gubbio, che ha disputato un ottimo match. Ci sono stati questi ultimi dieci minuti che sono stati fatali, mister. L'abbiamo buttato via noi, non c'è niente. Uno si è fatto buttare fuori per protesto e quell'altro per eccesso di zero dell'albitro. Non si può buttare via una partita giocata bene così, con tante occasioni, con rigore sbagliato, con la traversa, venire ad Arezzo e comandare sempre la partita a noi, perché in fondo l'abbiamo sempre comandata a noi, è stata una dimostrazione di forza e è stata una dimostrazione che siamo dei bischeri, parliamoci chiaro. È inutile che poi dopo andiamo a parlare, siamo dei bischeri, perché hanno vanificato una partita importante che avevano fatto sotto forma di due ingenuità che non davano a succedere, perché un ragazzo intelligente non può rivolgersi all'albitro dicendogli qualcosa, quell'altro non gli dico niente perché per me ha sbagliato l'arbitro, la grande. Cosa gli ha detto all'arbitro di così grave? No, questo non lo so, lui dice niente di grave, questo si è girato, l'ha buttato fuori, qualcosa gli avrà detto oppure non credo che sia diventato pazzo all'improvviso. Mi sei più incazzato o più deluso per l'esito di questa partita? Nell'uno e nell'altro, perché tanto è inutile parlare, quando finisce le partite devi pensare a quella che viene dopo, cercare di capire come mettersi in campo. Se devi stare a pensare, la partita che ha perso oggi ti viene da ridere, ma ti viene da ridere per non piangere, perché dai, una partita così, ma non è la prima volta che ci succede. Si va a pescare, si vince 2-1 a 3 minuti dalla fine, siamo capaci di pigliare due gol, è poco meno. Si va a Chiavari, si vince 1-0, gli si poteva fare 4 gol, poi siamo capaci di 2 cross e di prendere i gol. Con chi cazzo ci dobbiamo cazzare? Solo con noi, siamo dei polli. Ministro, l'ultima cosa, con gli indiani, anche lei l'ha ricordato, la prima volta che siete incontrati nel 90, insomma questa forse è la partita più bizzarra tra tutte quelle che avete giocato contro, oppure no? O ce ne sono delle altre? Ci ha avuto un culo di nulla. Ci ha avuto un culo di nulla.